sdrogo vieni 1v1 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 tiaro come prima mhm carello dei nabbi carello dei nabbi me lo prendo io il muro ma se mi senti balla ok vai attaccati che fai flexi la costruzione dopo se vinco provo a fare 1v1 con i comandi che non sono miei voglio vedere se ti riesco almeno a ittare però solo se vinco lo faccio quindi al 100% che fai flexi? guarda come è flexo grande sdrogo e mhm non mi uccide ee vai cambia comandi se ti batto con i comandi sei nabbi con i comandi diversi mi da noi carello guarda allora impostazioni comandi progresso sinistra della costruzione io uso combattimento vai edza aspetta fammi vai edza guarda cioè ma ti rendi conto che comandi schifosi uso sto usando quelli usano tutti eh volevi eh ancora c'ho da mangiare angelo sta facendo 1v1 con professionista della costruzione perchè gli ho detto che se lo ribattevo io con i miei comandi normali ehm usavo la costruzione e ora sto giocando alla costruzione se lo batto con la costruzione 1v1? ok allora mi levo scusa su sdrago basta ora si fa con i comandi normali anzi si vai con i comandi normali l'ultimo qua lo faccio un carello sdrago aspetta mi metti i comandi ma perchè non parla? vieni sdrago qua perchè è comunque il giocico non può parlare vieni qua sdrago cosa vuoi? ma cosa vuoi? ma cosa vuoi? babbo sdrago fatti uccide non ho full vita che coglione almeno ho full vita hai rotto bimbo hai rotto vai vai siete tra piccole stessa vita allora siete scemi io c'è 167 adesso muore sdrago così mi riprenderà tutta la vita angelo mai robato il moro il moro cittara dentro di signo la costruisce angelo fatti uccide faccio uccide da un fondo che non è con lui mi responi con full vita basta pese l'hova adesso non mi sparare sparò io no scherzo uno boxa lo blocca lo boxa lo boxa no non ci scanno oggi ci scanno dai basta drogo vieni lo distruggo a sdrago il blu ci vincerà ci ci hanno pure ci ha avuto presi in volo perché sdrago e sta fermo ok vieni niente giù ammazzami 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 terminante di huawei qua vai hai bisogno spacchi spaccino cione cg chan si autoblocca sembra tenere live no per the light perchè si autoblocca di nuovo cc la mattina di 90 ignorante altro sono ancora a fargli non è spaccato non ci vuole spaccato migliorno certo ancora fatto bene spaccino va altro drive non lo vedo ma che dov'è sopra fa il 98 ma dov'è ma ciò fa metto ha detto ho detto ciò fa se inizio che dopo andò so farlo che ma riapparecchiamo i riappositi da me ciò un piatto tovagliolo di posate C'ho pure la musica, quindi Eh, ma te guardi, io sto fettando Cosa flexi, cosa flexi Flexi perché non sa che fa, visse la aro Alla solito se flexi vuol di che trolli Eh, certo, vero Sì Ho preso 30, head Sì, certo, vuole piccola Eh, certo, ora scende a casa, così Uh, zitto, 200, 180 Non c'era il problema più forte Ma non mi spara Ha, 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 ha Carello dei navi Wewe Eh, non si rinamore Io, io, io Col combat, però Eh, sì Ho l'onore Eh, l'onore Vengo Adesso sto rinchiando E' ormai uscito anch'io No, non ci sei a te Dai, Matti Eh, eh Guardi sul cancro Tanto 220 Pure col combat Oh, oh, no, questa va sui tip Grazie